In ricordo della giovane artista di Policastro Bussentino, Maria Dorotea di Sia, morta tragicamente il 13 maggio del 2014, è stato indetto per il terzo anno consecutivo il contest fotografico Dorothy Dream Day. Lo staff della manifestazione ha da poco pubblicato il bando per la partecipazione. Il concorso questa volta avrà come tema La mia isola e si terrà il prossimo 10 luglio a San Giovanni Appiro e a Policastro Bussentino, col nome L'Isola che non c'è. Ai partecipanti si propone in particolare di trasmettere attraverso le foto in gara ciò che per loro rappresenta il proprio angolo di evasione. L'adesione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti d'età. Per partecipare occorre inviare una sola immagine all'indirizzo mail dorothy-dream-mail.com con una breve descrizione dell'opera stessa. Ai primi tre fotografi classificati saranno assegnati dei premi ancora in fase di definizione. Scopo del contest è rievocare l'amore per la fotografia della giovane Maria Dorotea che morì proprio con l'intento di premiare delle foto a causa di un incidente avvenuto in Puglia. È possibile candidarsi entro il primo luglio 2017.